Continuano le segnalazioni di voi telespettatori a Rossini TV e in particolare state continuando a segnalarci casi cittadini di erba incolta e vegetazione selvaggia che rendono di fatto impraticabili alcune aree cittadine dedicate a parchi comunali e aree gioco. Casi che riguardano soprattutto le periferie nella settimana scorsa ci siamo occupati del parco comunale in via Monterosa zona Borgo Santa Maria di fatto avviluppato da una giungla di arbusti fiori ed erba davvero alta oltre fino oltre la recinzione di delimitazione. Oggi siamo invece a Villa Fastigi in via dei Canonici nella zona a pochi passi dal centro sportivo della Vispesoro dove dovrebbe sorgere la cittadella dello sport ed è proprio una delle aree che dovrebbe essere interessate ad una riqualificazione. riqualificazione quanto mai opportuna perché questa area giochi è di fatto soffocata da una vegetazione fuori controllo, le panchine, i giochi come potete vedere da queste immagini sono completamente avvolte da questa erba incolta. Un altro caso di parco comunale periferico dimenticato, trascurato che ci sentiamo di aggiungere alla lista di interventi opportuni per rendere agibile quella che è un'area giochi anche di recente costruzione ma che in questo momento è abbastanza dimenticata sia dal comune e naturalmente anche dalle famiglie che difficilmente riescono a usufruirne. Continuate come sempre a segnalarci casi come questo a Rossini TV al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210.